Oggi vorrei parlare insieme a voi di come il Covid-19 diffonde. Questo ci dà ragione di alcune cose fondamentali e ci fa capire il perché dobbiamo rimanere isolati il più possibile, perché dobbiamo limitare i contatti con altre persone il più possibile e perché dobbiamo lavarci spesso le mani e lavare spesso le superfici con le quali veniamo in contatto. Partiamo da un concetto. Il Covid-19 è un virus che si trasmette per via aerea, per via diretta, soprattutto e va a colpire quelle che sono le vie respiratorie. Come avviene il contagio diretto? Il contagio diretto avviene prevalentemente attraverso quelle che vengono chiamate droplets, cioè goccioline. Quando noi parliamo, respiriamo, emettiamo delle piccole goccioline di dimensioni, tanto per darvi un'idea, di 0.5 micron, cioè il micron considerate che è un millesimo di millimetro, quindi goccioline invisibili che riescono a galleggiare nell'aria per alcuni metri. Ecco quindi che se noi siamo in una stanza affollata con della gente o anche solo comunichiamo con una persona a una distanza ravvicinata, queste piccole goccioline possono trasferirsi da una persona all'altra. È ovvio che se una delle due persone è positiva, anche asintomatica, ricordatevi che ci sono purtroppo tanti positivi asintomatici, quindi non è che solo chi ha la febbre è infetto, purtroppo noi dobbiamo partire dal concetto che tutti possono essere infetti perché ci può essere una trasmissione anche da persone che sono positive al covid, cioè hanno il covid all'interno della loro saliva, delle loro mucose, ma che non non sviluppano la malattia. Quindi non è che se noi parliamo con una persona o stiamo con delle persone che non hanno febbre, non hanno sintomi, siamo sicuri. Assolutamente no, ci sono tanti positivi che sono asintomatici. Queste piccole goccioline quindi possono trasmettersi, andare direttamente a contatto con bocca, mucose, occhi di persone e quindi infettarsi l'un l'altro. Quindi ecco perché questo è il modo diretto per infettare. Poi ci sono i modi indiretti perché queste goccioline come abbiamo detto possono poi andare a cadere e rimanere su delle superfici. Noi poi tocchiamo queste superfici, tocchiamo questi oggetti, ci portiamo le mani alla bocca o agli occhi o al naso ed ecco quindi che riavviene l'infezione. Quindi abbiamo detto un modo diretto che direttamente il droplet, queste goccioline che passano da una persona all'altra. Oppure il modo indiretto, cioè queste goccioline, questi virus vanno a posarsi sugli oggetti e qui permangono per un determinato periodo e quindi possono trasmettere attraverso le mani che vanno poi a toccare bocca, naso e occhi l'infezione. Vediamo alcuni dati. Per esempio una delle superfici dove rimane meno il virus è stranamente il cartone, le cose cartacee. Queste può rimanere fino a 24 ore. Se noi invece andiamo su una superficie per esempio in acciaio, qui può rimanere fino a 48 ore. Superfici in plastica per esempio, ecco qui che addirittura arriviamo a 72 ore. Questo per dire cosa? Uno, che noi dobbiamo pulire le superfici e gli oggetti che noi utilizziamo il più spesso possibile. Secondo, dobbiamo lavarci le mani il più spesso possibile. Terzo, dobbiamo evitare di portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi è sempre. Questo quindi implica molta attenzione, molta igiene personale e degli oggetti. Vi dirò anche quali sono le sostanze che servono per pulire le superfici. L'alcol, almeno al 75% e tutte le soluzioni a base di cloro. Ma anche i disinfettanti normali spesso hanno queste capacità. Quindi abituiamoci a pulire gli oggetti che utilizziamo e le superfici molto spesso. Laviamoci spesso le mani e stiamo in isolamento, cioè cerchiamo di avere contatti col minor numero di persone possibili, proprio per evitare sia il contagio diretto che il contagio indiretto.